Siamo all'inaugurazione del nuovo supermercato Tigre di Monticelli con il grande capo della famiglia Gabrielli, un'altra bellissima apertura e il gruppo si ingrandisce sempre di più. Sì, bisogna crescere, non fermarsi, ma il resto è la vita che è andata avanti, con moderazione, con determinazione, facendo sempre il fatto che contro la gamba, ma che è andata a prendere. Tanta gente qui a Monticelli e dopo l'acquisizione di Roma dei 53 negozi della Coppa, dove vuole arrivare la famiglia Gabrielli? Abbiamo già uno sviluppo programmato, adesso apriamo a marzo a Rosso, a Rosso abbiamo le aperture su Roma, ancora abbiamo, andiamo avanti, presso Agliti, un altro punto di vendita, all'Aspira. Aperture del centro Italia, ma resta la scolarità? Sì, sì, la scolarità per certi aspetti, anche internazionalizzazione, per il resto. La scolarità intesa in senso produttivo, in senso che accettiamo le nostre radici, ma più agli altri si vestiti verso gli altri.